Ciao Justin! Questo è Justin. Allora, c'è una, come si dice, barzelletta sopra i margheretari. Purtroppo c'è, dobbiamo dire. Allora, io mi trovavo, questa è una barzelletta mia, mia vera, mi trovavo a Portoparlo e c'era un marito e una moglie che litigava e diceva, e litigavano, no? Poi l'ultima frase che hanno detto dice ma come ragione come le margheretari, cioè, ma come ragione come le margheretari? Cioè, litigavano e lui si difendeva dicendo ma come ragione come le margheretari? Vicky, come ragione le margheretari, vizio? Come ragione le margheretari? Come ragione le margheretari?